Con la morte della raffineria, che tutto è in regola secondo la Saras, ma invece in realtà secondo i rilevamenti dell'Asile non c'è niente in regola. E' tutto fuori limite, e poi con i soldi riescono a comprare tutto, giornali, perché parlano per un po' e poi stanno zitti subito dopo. E questo fa capire dove arriva la mafia, purtroppo. Grazie a tutti. Il golfo degli Angeli è il mare più ricco della Sardegna. Che noi lavoriamo con quel porticciolo che è quasi quasi invivibile, pur essendo esistente un progetto, già pronti a dare in appalto i lavori. E ancora non si sa niente. E questo dovrebbe, noi lo chiediamo, uno ci dice una cosa e uno ci dice un'altra. E vorremmo delle risposte a queste cose, perché sono cose molto importanti per chi non vuole vivere, per chi non vuole lavorare in raffineria. Giustamente non sono io che dentro questi pesci ho messo tutti questi veleni. Ecco, il giorno che questo vigile si è accorto che c'era un odore strano, l'hanno sequestrato. Poi andando in processo, a me mi hanno dato, come ho detto prima, il foglio, le analisi, che erano micidiali. In base a quelle analisi sono stato denunciato perché questo pesce era immangiabile. Era un pericolo pericolosissimo. Mi fanno il processo e mi hanno assolto. Poi qui mi voglio fermare perché... Punto. E mi hanno assolto perché? Mi volevano dare anche la medaglia. Ah, oddio, bene. Io mi sono fatto, ho alzato il dito per dire che volevo spiegare, però mi hanno detto di stare zitto subito, immediatamente, che io non ero autorizzato a parlare. E allora, questi documenti sono archiviati lì, però tutto questo, da quel tempo a oggi, quello che voglio dire, quante persone da quel tempo a oggi, quindi quella data a oggi, hanno mangiato di questo pesce quando poi il mare era inquinato? Quante persone si sono malate? Quante persone avranno di queste sostanze nel sangue ancora che stanno tribolando e non sanno da quale parte gli è arrivata questa, 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 botta? Unite 25, Henry, return to your previous frequency, please. Also. Textus 925, 5 maintain, potable 370. Next, direct, 5 maintain, 370, cat, 925. House of the right, going up. Border. I'm glad, thank you. Textus 925, turn 30 degrees left. Textus for traffic. 30 degrees left, textus 925. Sì, può darsi che qualcosina ci sia, perché logicamente qualche scarico c'è. Ai mugini, alle spigole può capitare, perché sono pesci che vanno a pelo d'acqua, quindi la nafta, gli uli, eccetera, eccetera, stanno a pelo d'acqua, difficilmente vanno a fondo. Quindi la spigola, il mugine, probabilmente ci credo, se è successo ci credo. Ho pescato io stesso una spigola, l'ho presa, tu immagina, l'ho presa a Santa Margherita di Pura, che, diciamo, è abbastanza dietro, qui stavano, da qui saranno, dalla raffineria saranno, fai 15 chilometri di mare. Eppure aveva sapore diesel. Era una spigola diesel, una bellissima spigola dei 3,8 kg diesel. Nei dintorni di San Rocco, Villa San Pietro, comunque nei territori a fianco a San Rocco, che l'inquinamento è proprio appoggiato sulla nostra testa. Le piante, il terreno, tutto quanto, è tutto quanto inquinato. Vi posso dire solo una cosa, che mi è capitato di pulire ventrammi di agnello che pascolavano nei rintorni della raffineria e abbiamo dovuto buttare via tutto perché aveva l'odore di zolfo. Abbiamo attraversato adesso la raffineria e mentre camminavamo mi è venuto in mente un episodio. Quando la compagnia è stata formata nel maggio del 62, nel 63 siamo venuti a cercare i terreni e abbiamo individuato questa zona come la zona ideale. Un drappello di persone, di giovani ingegneri guidati dal mitico ingegner Zucco che aveva costruito la nostra raffineria in Sicilia e che poi ha fatto la Saras, si sono addentrati nel terreno. Il terreno era molto fangoso e l'ingegner Zucco ha perso una scarpa, tornò con una scarpa e una calza. Tornò in ufficio abbastanza turbulento come era lui e disse chissà se aver perso la scarpa è stata una fortuna o è stata una sfortuna. e un ingegnero gli risposo ma guarda è stata certamente una fortuna, siamo stati già inglobati dall'ambiente. Si sono qui in Saras circa 41 anni, 41 anni e mezzo, però sono arrivato a San Rocco prima che rinascesse la raffineria perché sono nato a Cagliari e l'ho vissuto a Cagliari. La Saras e tutte le industrie sono inquinanti di per sé, soltanto a vederlo, rumore, impatto ambientale e io lavoro negli scarichi a mare, ho un freddo cane scusate, lavoro nel trattamento acqua, in ingresso alla raffineria per il fabbisogno della raffineria stessa e gli scarichi ovviamente. e devo essere sincero, gli scarichi a mare sono molto monitorati e sono anche abbastanza buoni, diciamo, gli scarichi a mare. La raffineria è apprezzata per raccogliere eventi naturali di straordinaria portata, quindi di piogge cosiddette torrenziali. Abbiamo dei sistemi di raccolta, di emergenza che ovviamente sono in grado di contenere sino a una certa dimensione dell'evento naturale. Ovviamente in caso di alluvioni vere e proprie, così come una città, così come qualunque insediamento urbano potrebbe andare in crisi, anche un sito industriale, ovviamente se è straordinario come l'evento naturale potrebbe metterci in crisi. Ci sono delle circostanze in cui l'inquinamento che va a mare, quello che interessa a me, è un inquinamento dovuto a grosse precipitazioni atmosferiche che se la sala, noi non riusciamo a contenere nei nostri bacini, nei nostri serbatori, siamo costretti ad aprire delle serrande a mare, ma questo non è un segreto, è una novità. Sono serrande addirittura controllate dalla provincia, non si possono aprire se non in determinati casi e solo in quel caso lì siamo costretti a scaricare a mare. Scarichiamo acqua con fango. Questi impianti sono nati sulla scia della crisi energetica degli anni 90 che veniva gestita appunto, sarebbe dovuta essere gestita dall'Enel, che non aveva la possibilità di costruire ulteriori centrali elettriche e ha coinvolto un certo numero di imprenditori in una impresa di costruzione di diverse centrali a carico delle imprese che volevano partecipare. Questo è il principio del CIP6, cioè dell'agevolazione di tipo sulle tariffe elettriche che ha appunto consentito agli industriali che volevano partecipare di ottenere un incentivo per costruire centrali.